Oggi c'è stata la presentazione nel nuovo piano della comunicazione del Comune di Argente per il triennio 2008-2010. Con questa giornata vogliamo semplicemente raccontare, comunicare ai nostri cittadini quello che è uno sforzo che stiamo cercando di mettere in piedi per favorire la comunicazione all'interno della comunità non solamente attraverso un'innovazione del linguaggio più chiaro, più sintetico, più semplice ma anche introducendo degli elementi di novità nei mezzi di comunicazione come con un nuovo notiziario comunale ma anche con un portale che si affianca al sito istituzionale del Comune in un'ottica di comunicazione all'esterno di quelli che sono gli aspetti turistici di quelli che sono le attività del tempo libero di quello che sono le opportunità per gli imprenditori. A fianco del portale abbiamo anche l'esperienza via Argento TV che è un'esperienza di web television di produzione audiovisiva dal basso che ci ha consentito tra l'altro di approdare una trasmissione specifica che si chiama Argento in video. Argento in video è un programma di qualità che noi siamo veramente molto contenti di ospitare nella parte audio-video di Lepida TV. È una rassegna periodica che noi adesso vorremmo inserire in un palinsesto organizzato ad hoc proprio per poter esaltare la qualità e quindi darla come formazione e informazione vera a tutti i cittadini della miglia romagna. Lepida TV è un canale che utilizza la TV digitale terrestre per dare servizi ai cittadini sia audio-video che servizi puri quelli che normalmente si trovano nel web e con Argenta siamo riusciti a trovare questa unione di intenti con da una parte Argenta semplificazione dei suoi servizi e del linguaggio grazie anche al nuovo portale che oggi ha presentato da ripubblicare in Lepida TV a favore di tutte quelle persone e quei cittadini che hanno difficoltà oggettivo-culturali nell'utilizzo del web o geografiche perché ancora non hanno la banda larga o problematiche di questo genere. Il nostro ruolo è stato quello di un'assistenza metodologica al gruppo dirigente e all'amministrazione. Noi abbiamo lavorato con loro sui contenuti sulla costruzione dei progetti e sulla messa in opera dei progetti attraverso l'organizzazione interna. Devo dire che un aspetto interessante di questo lavoro fatto a Comune di Argenta in questi anni sta nel fatto che il Comune di Argenta si propone come un punto di riferimento nel panorama istituzionale non soltanto dell'Emilia Romagna ma direi anche in Italia. Alcuni di questi progetti sono progetti che hanno una rilevanza veramente notevole non soltanto dal punto di vista del nostro territorio ma dal punto di vista proprio delle istituzioni italiane. Quindi noi speriamo che sia un'occasione questa con l'Argenta che venga accolta anche da tutte le altre pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna per poter avere un portale per così dire unico nella quale l'identità dei Comuni esiste ma il cittadino si trova facilitato al comunicare appunto con l'ente stesso. Non crediamo che la comunicazione andrà in crisi. In genere quando c'è una crisi sociale il desiderio di comunicare aumenta perché c'è molto bisogno di rassicurazione. Crediamo che per un'istituzione in particolare l'essere sempre più capaci in momenti di difficoltà di essere dei punti di riferimento e quindi di avere una funzione anche di rassicurazione per i cittadini non farà altro che portare a costruire a progettare a pensare a nuove modalità di comunicazione. Quindi non credo proprio che la comunicazione e la voglia di comunicare andranno in crisi in momenti come questi. Tutt'altro. Penso invece che si troveranno nuove strade come tra l'altro questa mattina abbiamo anche intervisto. Non ci sarà un sistema ci sarà un insieme di modalità. Certamente non si può nulla potrà sostituire la comunicazione tradizionale. cioè i cittadini che si informeranno attraverso i mezzi di stampa e comunicheranno attraverso il passaparola ci saranno sempre e nessuno credo che dovrà ambire a sostituire tutto questo. Naturalmente c'è tutto il mondo dei media in evoluzione il mondo dell'informatica della comunicazione telematica dei social group eccetera che man mano prenderà sempre più piede su questo è un destino credo è una tendenza credo incontrovertibile al di là che l'Italia il consumo l'utilizzo di internet sembra che sia addirittura in calo però di fatto questi sono momenti ma in realtà il mondo va in quella direzione ma questo non dovrà sostituire non potrà farlo le modalità più tradizionali di comunicazione. è un'esercizio di un'esercizio di